Tragedia sfiorata alla regata Pesaro-Pola. La 36esima edizione della regata d'altura sulla rotta dei Trabaccoli è stata teatro di un pauroso incidente occorso alla barca croata Canarino Furioso, abitué della competizione. Nella notte fra sabato e domenica lo scafo ha urtato un ostacolo a 17 miglia dalla costa istriana ed ha finito per rovesciarsi. Tre uomini dell'equipaggio sono finiti in mare per poi riuscire a risalire, mentre altre due donne erano sotto coperta e sono rimaste incastrate per 5 ore sotto lo scafo. Partita la richiesta di soccorso, la prima imbarcazione ad arrivare sul posto è stata la maltese Zarevic che ha tratto in salvi tre uomini. Per salvare le donne è stato invece necessario attendere l'arrivo dei sommozzatori e della guardia costiera croata che ha rimorchiato a Pola la barca rovesciata. Un episodio che ha fatto sembrare bazzecole il meteo inclemente alla partenza di Pesaro di venerdì pomeriggio con 25 barche al via, 5 che hanno rinunciato per le condizioni proibitive e una rimorchiata in porto a Pesaro dalla Capitaneria dopo la rottura dell'albero. Intanto è partita la manche conclusiva a Pola Pesaro, mentre la seconda manche è stata vinta dalla barca anconetana di Letterio Morabito.